ciao a tutti i Dreamlike Moonvi dal benvenuto a un nuovo episodio della Nazo Berry Challenge stiamo a casa Berry era da tantissimo che non venivamo qua e per una volta per l'ultima volta la famiglia è tutta riunita sotto questo tetto nel senso cioè non l'ultima volta in assoluto ma l'ultima volta che tutta la famiglia ci ha passato la notte perché sì anche Perla è momentaneamente tornata all'ovile ma questo perché perché oggi la nostra Crystal si sposa con Anjan ebbene sì sono qui anche i due gemelli per cui abbiamo Anjan e lo sposo Amal ho detto che si sposa con Anjan prima no si sposa con Amal ragazzi e si hanno tutti dormito qua così stamattina sarebbero stati più più veloci quindi eccoli qua la mamma chiacchiera con la figlia insomma le ultime raccomandazioni tra un po' cominciamo a prepararti chiamo anche le tue sorelle gli altri chiacchierano di sotto a colazione e insomma c'è una certa un certo brio nell'aria ecco per cui io direi che senza perdere altro tempo dato che sono solo le sei di mattina ci vediamo direttamente al luogo dove avverrà la cerimonia e siamo all'otto che ha visto tanti matrimoni in questa famiglia però che sfiga piove piove ragazzi però come si dice sposa bagnata sposa incazzata ecco sì siamo tutti qua stiamo attendendo gli ospiti finora si è presentato solo Crimson però chiaramente ci sono dovrebbero esserci tutti inclusi anche Luna la mamma di Amal dello sposo o arrivano le amiche di sempre per cui abbiamo Carlotta che sei in cespugliata ciao Carlotta ma che fai lì è quello che ci chiediamo tutti abbiamo anche uh mamma mia Luna stavi facendo i piegamenti sei felice per questo tuo figliuolo che si sposa credevo che non avrei mai visto questo giorno beh trattandosi di Amal magari sì Anjan non so uh salve che queen che queen la nostra Dani? Alison Dani è l'altra uh abbiamo Maple ciao Maple ma preferivo che si sposassero a Sulani hai ragione vedremo di fare un altro matrimonio a Sulani what tutti dicono che sei una persona meravigliosa sì va bene facciamo questa donazione grazie arrivederci scusa presentazione flirtante ma sei fuori ma sei fuori va che Marisol non va tanto per leggere eh salve signor Barry come sta? ok sono un po' fuse queste persone oggi Marisol tesoro tu hai la torta esattamente qua si bagnerà lì sotto vabbè amen e quindi io direi che ci siamo tutti quindi uh devo abituarmi al fatto che Crimson sia un vampiro e che non dovrebbe essere una novità giusto però secondo me tu che stai facendo stai facendo quello che ti ho detto mamma mia puoi andare per favore a riempire la fontana di cioccolata e a servire le portate grazie che hai anche fame no eh non ci puoi andare ti sei incantata va bene allora prendi un intingo dal formaggio qua perché se no gli ospiti si ubriacano mentre aspettiamo tutti ma vabbè oh brava meno male marisol che stai facendo ma ti dai una calmata alba cioè mangia è più agitata lei della sorella io non so vabbè comunque si sono è entrata in una spirale di sentiti debagghiamo mangia è entrata in una spirale vabbè comunque stavo dicendo le due sorelle che sono le damigelle che fai prendila a mangiare anche tu dai ma non si fa vabbè si sono abbigliate uguali mamma mia però a vederla così perla fa paura cioè se ti tira uno schiaffo giri per sei mesi vabbè ma oh ma siete famelici dai dai per favore ma come fate ad avere tutti quanti fame me lo spiegate me lo spiegate cioè li ho fatti partire da casa che erano perfetti cosa fate voi due parlate di come è andata la vostra relazione vabbè dai allora chi c'è c'è chi non c'è non c'è lo sposo è rimasto qua con marisol ad accogliere gli ospiti io direi che facciamo i soliti gruppi e ci avviamo all'altare ovviamente è un po' impossibile pretendere che tutto si svolga senza intoppi soprattutto con sti ombrelli però vabbè dai piove eh lo so te ne sei accorto adesso che piove comunque guardate che innamorato che è il nostro Amal guardatelo guardate che che sorridente cioè non è una faccia da riprendere la faccia dello sposo riprendiamo anche la sposa alla quale non abbiamo ancora fatto alcuna foto però adesso faremo tante foto allora dato che io non voglio vedere ospiti in giro far cose strane ci sposiamo sposati con chris alberri così noi guardiamo la cerimonia facciamo finta che anche gli ospiti la stiano guardando e ce la godiamo oh via sì va bene baci a bracci vuoi tu Amal prendere Crystal Berry come tua legittima sposa bla 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 vuoi tu Crystal prendere Amal Butler come tuo legittimo sposo bla 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 sì lo vogliono c'è anche lo spirito di Oriel che però sta svanendo oh si stanno scambiando le promesse per cui sì lo vogliono che belli però dai non fare la finta la finta timida sappiamo che non lo sei Crystal Cara ma che belli auguri auguri agli sposi oh benissimo perfetto ragazzi è il miracolo cioè questa cosa veramente del miracolo sarà la pioggia che li spinge a non andare in giro non so dove stiano guardando tutti perché stanno guardando qua cioè magari pensano la prossima volta ci ritroveremo tutti qua no dai ragazzi non rovinatemi i matrimoni dai stavo pensando come fare una foto a questa cosa che ha veramente del miracoloso ups vabbè la facciamo così e poi peccato per gli ombrelli mannaggia per una volta che stanno tutti seduti hanno gli ombrelli in mezzo porca miseria mai che ce ne vada una bene mai una gioia proprio mai una gioia e quindi adesso io direi ragazzi Baldoria adesso sì che potete strafogarvi eccetera eccetera per cui ordina una bevanda per no 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 di gruppo no non siamo in gruppo giusto allora chi è che ha il gruppo? sono Alba e Crystal che hanno i gruppi ordina una bevanda di gruppo ci prendiamo un bel vino un bel cranerlenua la di fiume fertile e tu sei? ah qualcuno un'imbucata va bene e tu Perla vabbè anche tu magari vai qui insieme portiamo qua tutti quanti cioè anche chi è felice che sia che stia piovendo vabbè e adesso sì che potete mangiare oh brave ragazze prendetevi il cibo Marisol 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 prenditi salsiccia e peperoni prendi una porzione oh servitevi 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 che qua è tutto quanto buono ce n'è c'è questo qua abbandonato mangia l'intingo del formaggio oh che bella festa peccato che questo esatto è rotto vabbè faremo meno faremo meno salve e Perla aveva invitato Nathan 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 non so perché mi viene da chiamarlo Nathaniel cioè in realtà lo so posso immaginarlo però non ve lo dico però non si è presentato invitalo di nuovo nell'otto vabbè che magari oggi aveva da lavorare giustamente ma scusa Marisol come la tua lunga vita sta per finire ma no ti mancano 18 giorni senti gioco non portare sfiga eh e Nathan arriverà molto presto e non mi pare però che ci sia cioè ho chiamato anche prima ma non si vede che aveva un impegno di lavoro secondo me cioè ovviamente ma giustamente cioè mi stupirei del contrario no è arrivato perché sei triste che è successo mmm dato che siamo su Marisol presentazione amichevole uh ma chi è quel bel giovanotto è un un imbucato sicuro perché cioè ovviamente non può sapere che l'ha invitato la figlia salve si è perso per caso ehm ma io in realtà sono qua per per la Barry ah è mia figlia è là dentro con gli invitati ma dove guardano oggi tutti vabbè facciamo finta di nulla vieni qua tesoro vieni a salutarlo ehm amichevole oh facciamo un bella abbraccia non stritolarlo troppo eh che me lo soffochi senti Marisol vai a farti le affari tuoi adesso dove di mangiare mangia 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 salsiccia e peperoni così va Perla a salutare Nathan e magari lo fa conoscere la famiglia e magari lo tira anche un po' su di morale ciao come va tutto bene che è successo come mai quella faccia ma guarda eh ci sono problemi con mia sorella sai eh il trasferimento la casa nuova cioè il buco nuovo perché non è una casa ma dai su con la vita vedrai che si ambienterà ma e poi ci sono io adesso per cui cerchiamo di rallegrare se sentite rumori strani sono i gatti ovviamente ormai dovreste saperlo rallegra però ehm c'è impara a conoscere su quella vita che oggi si festeggia ed è tutto gratuito impara a conoscere ma andiamo dagli sposi giustamente perché no 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 prendi ferie pagate ecco prendi ferie pagate ma che scherziamo no no non si va al lavoro oggi non mi ricordavo che lavorava ancora Marisol se non le avrei fatto prendere ferie eh va bene sposi dove siamo Amal dove sei qua sotto a fare confidenze tra fratelli e beh giustamente senti ogni tanto continua a uscire a divertirti non non diventare casa e chiesa no casa e chiesa di certo non diventa ehm Marisol che stai facendo? ballo ma ma no ma perché andate tutti qua vabbè lasciamo stare dai un momento con gli sposi anzi tra gli sposi perché questo giustamente è il loro giorno per cui stringi tua moglie manca poco il compleanno di Anjan quanto vi manca ragazzi? tre giorni e alle ragazze? anche oh ma che carini che sono dai anche se piove tutto sommato è una bella festa no? ma certo amore è proprio il matrimonio che ho sempre sognato sì questo rotto a parte però vabbè anche io sognavo un matrimonio così sinceramente per la prima volta tutti gli ospiti tranquilli seduti per cui bacia sotto la pioggia oh ma ma non cosa dai volta la testa Cristal volta la testa smettila di parlare vabbè bacio appassionato ce la facciamo? non chiacchierare con Enrico oh questa volta sì che siamo riusciti loro che sono giovani facevo anche io queste cose quando ero giovane eh sì lo so abbiamo visto tutti e pensare che tu per convincerti ce ne abbia messo vabbè sì non è la foto perfetta ma noi ci proviamo comunque niente hanno il torcicollo beh ragazzo devi affinare la tua tecnica di bacio senti Crimson non rompere le palle ok Cristal che stai facendo? hai risollevato il morale del tuo ospite? no no Joel Cunt non è finito dove è andato? che dobbiamo presentarlo alla famiglia tesoro ehm forma un gruppo non c'è più è sparito vabbè si vede che aveva da fare ha fatto un salto qua e poi aveva da fare giustamente congratulazioni per il tuo matrimonio con Cristal vi auguro una vita felice insieme ma chi sei? vabbè amen però tesoro io so che qua va a finire male per cui vai in bagno quello per gli uomini qual è? nessuno dei due o meglio tutti e due anche tu devi andare in bagno? no per cui io direi che dopo facciamo un bel taglio della torta ma il cibo qua lo state mangiando? quasi no state tutti bevendo vabbè Marisol che fai bevi? voglio qualcosa che non sia acqua ragazza che qua ne viene giù anche troppa dal cielo vabbè dai tutto sommato ce la stiamo cavando tutto sommato non ha niente male per cui io direi che riportiamo tutti qua per cui vai qui insieme e vai qui insieme e portiamo chi è che è caduto come un salame? dai perla vabbè e portiamo qua anche i nostri sposi che così possono fare il taglio della torta vai qui no 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 non ordinari da bere adesso è il momento di tagliare la torta vabbè fortuna che ci sono gli imbucati che fanno un po' di audience per cui Crystal taglia la torta nuziale oh c'è anche l'happy hour qua continuano a cadere vai maple ma cosa che continuate a guardare cosa c'è di così interessante da quella parte vabbè lasciamo perdere volevo fare una foto però gli ombrelli sono in mezzo vabbè lasciamo stare ok sei stato un fulmine non ho fatto in tempo a farti una foto no non è il compleanno di nessuno ragazzi ma che cosa fai? è il taglio della torta più assurdo che abbia mai visto si va bene ok tu le hai imboccato l'orecchio e tu le hai imboccato cioè le hai imboccato col piatto vabbè lasciamo stare perfetto bellissimo ragazzi top vabbè non che da loro mi aspettassi qualcosa di di normale ma di così strambo neanche ecco me l'aspettavo più da Alba una cosa del genere non che mi aspetti che Alba si sposi eh tra parentesi però vabbè dettagli quindi Alba tu hai mangiato hai bevuto hai fatto qualcosa sì tu Perla tu stai benone ok perfetto e vi ricordo che i nostri non torneranno a casa no dov'è la sposa? qua no perché Perla e Amal si trasferiranno nella loro nuova casa ma anche Alba e Anjan si trasferiranno nella loro casa stasera quindi non torneranno a casa Barry no oh ma che carini inizieranno una nuova vita insieme quindi nelle loro case di cui ho fatto lo speed build un po' di tempo fa mentre per quanto riguarda Perla lei tornerà a vivere a casa di mamma e papà quindi a Waisy Springs ehm però vabbè stanotte comunque un paio di giorni ecco se li prende per mettere a posto le sue cose e trasferirsi insomma è normale ha già fatto richiesta di trasferimento alla squadra di Oasis Springs per cui quel lavoro è a posto ehm e quindi io direi che attendiamo che finisca il matrimonio e poi lasciamo che le coppiette vadano a trasferirsi insieme ma noi abbiamo una cosa importante da fare con Perla che ha pensato insomma di trascorrere un'ultima serata speciale prima di di abbandonare sai mi sto ritrasferendo a Waisy Springs sta dicendo il cugino ho pensato appunto di organizzare qualcosa di speciale con Nathan e quindi speriamo che stasera sia libero ma sono sicura di sì fangoso dappertutto Anjan inizia bene eh questa giornata cioè finisce bene perfetto dai che abbiamo l'oro ragazzi abbiamo l'oro ehm altro che volete fare? di cui volete approfittare? vabbè io comincio a metter via i piatti perché qua sennò va tutto male questo no ehm cioè ce lo portiamo a casa giustamente controllo ancora chi ha fame ma nessuno dovrebbe aver fame beh Marisol sì prendi un intingo dal formaggio e mamma mia quindi io direi che il matrimonio è andato bene abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare gli ospiti qua si sono rinchiusi ma vabbè non mi aspettavo diversamente e quindi noi adesso salutiamo le coppiette che andranno a trasferirsi guardate lei si sta preparando mentalmente al trasferimento che dovranno trasferirsi però una foto insieme ve la fate? riusciamo a farcela una foto insieme? ehm fai una foto con perché sarebbe carino no? scatta una foto con con alba e poi le sorelle con ehm con crystal e magari anche i due fratelli tra di loro perché no ma col giardiniere in mezzo no no per fortuna dai c'è la mamma e l'amica però vabbè va bene lo stesso beh carina così dai e e facciamo chiaro per immortalare il matrimonio della sorella poi voi due tu con tuo fratello scatta una foto con Amal ah sta chiacchierando con la mamma ragazza togliti di mezzo sì ma tu dovresti toglierti dal bar tesoro vabbè e perla magari con crystal scatta una foto con ce la facciamo? no mi sa che i due fratelli non ce la fanno o forse sì sì dovrebbe farcela cerchiamo di farcela ragazzi qua il matrimonio è finito a momenti oh abbiamo l'oro oh ma che carine bellissime anche con un bello sfondo belle l'oro voi riuscite a farvela questa foto del cavolo qua sta rallentando tutto da matti per cui io direi faccio le foto e noi ci vediamo dopo sì abbiamo capito che non ce la farà mai sei incantato senti scattala tu la foto con tuo fratello e ci vediamo direttamente alla serata di Perla ed è l'ultima serata come stavo dicendo di Perla a Sei Maishuno e Nathan si presenta appunto alla sua porta quindi Perla si fionda fuori ad abbracciarlo per cui abbraccia ciao allora sei pronta a uscire? e lui beh ma che hanno tutti che sono scontenti oggi e lui beh a dire il vero io speravo di trascorrere questa serata in tranquillità insieme a te e... che cosa? non vuole uscire no Perla non vuole uscire vuole trascorrere questa serata insieme a te romanticamente per cui io direi che il nostro Nathan può stringerla ma che cosa hai Perla? sei fuori cioè è una cosa romanticissima dovresti essere felice ah va bene allora non vuoi andare a far Baldoria? beh certo però si fa sempre in tempo a far Baldoria qui il tempo è tiranno per cui preferisco fare altro insomma ti sta facendo delle avance molto chiare Perla cioè io non so tu ma io fossi in te what? ah ma perché sì vabbè perché tu sei fuori Perla perché hai la stravaganza dov'è qua? hai la stravaganza dell'assenza di contatti ma sai che facciamo? quasi quasi che io te la tolgo per cui via la stravaganza e ci beviamo la pozioncina o bevi per l'assenza di contatti Nathan tu puoi tranquillamente sederti vai qui sì anzi siediti proprio ok perfetto basta chiacchierare andate dentro a sedervi siediti ok perfetto allora hai preparato tutto? beh sì sono quasi pronta per partire quindi sì massimo un paio di giorni e sarà sarò a oasisprings ah bene e quindi saremo anche vicini beh in un certo quel senso vieni qua accoccolati beh allora meglio cominciare subito ad abituarci a questa vicinanza che ne dici? ma quanto carini sono cioè visto che anche voi li adorate come coppia sono veramente adorabili è una proposta questa? beh in un certo quel senso e quindi amoreggia ah beh se la metti su questo piano allora ma certo che la metto su questo piano bacia ti va bene come programma della serata folle? ah beh perché no così di punto in bianco ragazzi no beh in realtà no non di punto in bianco sono come due calamite fin da dalla prima occhiata che si sono scambiati no ed è anche l'ora che perla torni ad amare la persona giusta per cui sussurra smancerie ma per cosa te ne frega? a parte che chi è questa Simona? non ce ne frega sussurra smancerie dov'è dov'è dov'è? non c'è più non c'è più oh sì sussurra smancerie beh allora sai ho idea di come dare un ultimo addio a questo appartamento eh sì che ce l'ha l'idea eh sì fai fichi fichi con Nathan vediamo se accetta se non accetti Nathan sei fuori no sono rimasti a guardarsi nelle palle degli occhi fai fichi fichi con Nathan allora che ne dici? e la notte è ancora giovane eh sì per cui i nostri inaugurano la loro serata insieme facendo questa follia diciamo questo dicendo questo tipo di addio all'appartamento a Sam Isshuno è una nuova vita per entrambi a Oasis Springs perché brilluccichi? eh non lo so non voglio saperlo meglio non saperlo quindi con questo io vi saluto qua per questo episodio spero che il matrimonio vi sia piaciuto se è così lasciate un bel like mi raccomando iscrivetevi se siete nuovi attivate la campanella vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutte le mie serie ai social ai canali dei miei amici youtuber al mio secondo canale alla mia affiliazione instant gaming tramite la quale potete acquistare video giochi a prezzo scontatissimo aiutando anche al contempo il mio canale solo però se utilizzate direttamente quel link per cui detto questo io vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione e noi ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda stupenda giornata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti